C'è un libro o una tecnica in particolare, una lezione che tu dici questo è il mio faro, il mio modo di essere un manager. Guarda, il consiglio è probabilmente più di alto livello ma forse anche più prezioso che posso dare è frequentemente posti da domanda che manager vorrei se fossi io che devo lavorare con questo manager. Un errore che si fa spesso è dimenticarsi che c'è un essere umano dall'altra parte. Per cui cercare di essere una persona che è bello a lavorare, iniziosa, esigente ma giusta che in prima persona si fa il mazzo tanto e cerca di darti dei consigli critici dice bravo quando hai fatto una cosa buona, che chiede scusa quando ho sbagliato, che riconosce i meriti, che non cerca di prendersi i meriti che sono tuoi. Ogni due o tre mesi accogliamo domande, uno può fare un imettante sulle nomine e poi abbiamo una sessione tutti insieme in plenaria. Vediamo molto nella prasparenza e nella scoprire le voci di tutti.